Ciao, sono la professoressa Glaia Vignoli e sono il direttore della neuropsichiatria infantile dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale Mi Guarda di Milano. Nei nostri ambulatori e nei nostri servizi riabilitativi offriamo delle risposte multidimensionali che prevedono l'intervento di diverse figure, figure mediche, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti e terapisti come fisioterapisti, rocopedisti, terapisti della neuropsicomotricità ma anche educatori e infermieri. Sappiamo che le risposte a questo fenomeno devono essere risposte complessive di sistema che vadano a integrare a vari livelli gli interventi quindi a livello educativo come la scuola, a livello sociale e a livello sanitario. In ogni caso è fondamentale una risposta tempestiva che vada a intervenire sul ragazzo e sulla sua famiglia.